Una delibera importante appena passata in giunta, quella presentata dalla Lega, delibera sulla sicurezza urbana che manderà in strada i vigili urbani sino alle 24 con il comando aperto per cercare di controllare la città, di concerto anche con le altre forze dell'ordine, in maniera più capillare e massiccia, anche per gli episodi sempre più frequenti di microcriminalità giovanile. L'assessorato alla Polizia Municipale, guidato da Laura Cucchiarella, mette in campo più risorse per attenzionare il fenomeno. Inoltre si scorrerà anche dalle graduatorie per avere sette unità in più di vigili. La delibera tecnicamente è un atto di indirizzo per potenziare il servizio e ampliare i controlli sul territorio cittadino che è profondamente cambiato, anche con la nascita del progetto case del doposisma, cui spesso si rifugiano delle sacche di microcriminalità. Attraverso questo nuovo strumento si andrà a porre molta attenzione pure sulle frazioni ad est e ovest. Abbiamo approvato in giunta una delibera di indirizzo che praticamente è da mandato al settore di Polizia Municipale di verificare la possibilità di estendere intanto l'orario di apertura del comando almeno fino alle 24 durante tutti i giorni della settimana per garantire una migliore vigilanza di tutto quanto il territorio comunale. Inoltre ha anche la possibilità di poter usufruire di servizi di vigilanza privata per attenzionare particolari situazioni della città. Com'è la situazione della Polizia Municipale a livello di organico? Lei citava vigilanza privata proprio per cercare di avere più forze? Sì, allora in questo momento abbiamo portato un'altra delibera in giunta con il personale proprio per l'attingimento a delle graduatorie e dovranno essere presi almeno sette unità durante quest'annualità. Appunto poi vedremo nel prossimo anno con un nuovo piano e con le risultanze di questo studio che già è in corso da parte del tenente colonnello della Polizia Municipale di poter aumentare ulteriormente questo numero di nuovi vigili urbani. Comando aperto significa vigili strada? Assolutamente sì.